amici canale caccia.tv siamo a dva siamo all'interno dello stand di mauser come sentite è uno stand vivace i nostri amici cacciatori e naturalmente armerie distributori arrivano in forze qui a dva per mauser sono con il mio amico domenico e siamo ad introdurre anche a livello internazionale mauser m18 per i nostri amici italiani visto che il pubblico di canale caccia.tv ma anche di caccia in fiera.it sta diventando sempre più internazionale approfittiamo dell'occasione perché facciamo introdurre quest'arma veramente speciale a domenico e questa volta la presentazione in inglese please ciao ragazzi i i will explain the rifle shortly in english because my italiani is not that good but yes okay the new m18 comes with a two component stock soft grip inlays here and here polymer synthetica naturally exactly it has an three bolt action inside here and a three position safety very important naturally this yeah absolutely absolutely it has also an adjustable trigger well from thousand to 1500 gram and the magazine it is detachable look you can put it out it's very easy it's very easy easy in and out five plus one say yes this barrel has precision guarantee sub moa i am sure absolutely we are sure well we give this guarantee to every m18 and you won't believe it it's below 1000 euro it's the best value for a rifle you can get at the moment the price is very very interesting for this weapon absolutely bene amici di canale caccia come vedete stiamo diventando sempre più internazionali il nostro amico domenico parla poco l'italiano ma comunque un poco e si capisce quest'arma l'avevamo presentata anche a vicenza chiaramente l'occasione era ghiotta per presentarle di nuovo è un level entry per quello che riguarda mauser garantisce tutta la qualità e la affidabilità del marchio mauser è una carabina per io la impugno come se vado in caccia vagante va bene perché è talmente tanto maneggevole e quindi un'ottima offerta anche per il mercato italiano non solo per il mercato internazionale come avete sentito il prezzo particolarmente vantaggioso che quasi uno non se lo aspetta da mauser thank you thank you very much grazie grazie ciao a tutti